Parte in questo istante anche la seconda gara di giornata. A pedalare troviamo ora gli esordienti del secondo anno, quelli nati nel 1995. Per loro un giro in più rispetto ai compagni che li hanno preceduti, anche questo con lo strappetto che potrebbe fare una certa selezione. Partenza subito forte per questi atleti, in testa a tentare un allungo troviamo un portacolore dell'Ausonia, ma il gruppo è lì appena dietro e subito reagisce. Nel corso del terzo giro nasce l'azione decisiva. Al comando troviamo quattro atleti, Simone Cattaneo della ciclo team Nembro, Daniel Benedetti della Valle Sabbia, Nicola Sgrassi della San Marco Vertova e Saturnini Mattia della Ausonia Pescantina. Dietro il gruppo tenta subito di ricucire lo strappo con un atleta della Valle Camonica che a testa bassa tenta di riportarsi sui fuggitivi. Continua l'azione dei quattro al comando che con cambi regolari continuano a guadagnare terreno sul resto del gruppo che sembra lasciar fare. Suono della campana, comincia l'ultimo giro e il gruppetto al comando ha circa un minuto di vantaggio sul resto del pelotone. Saranno quindi probabilmente loro a giocarsi la vittoria finale. Ma eccoci all'arrivo! Sull'ultimo strappo si sono avvantaggiati i due atleti che ora lottano per la vittoria finale. Vittoria che va a Simone Cattano della Nembro che precede il compagno d'avventura Nicola Sgrassi. Con 18 secondi di ritardo completa il podio Daniel Benedetti su Mattia Saturnini e Lorenzo Rota che regola il gruppo. Allora Simone, siete partiti in fuga in quattro, alla fine sei riuscito a spuntarla tu? Sì, sono molto contento di questa vittoria. La collaborazione nella fuga era buona. Sull'ultima volta che abbiamo fatto la salita sono riuscito a stare dietro agli attacchi di Grassi. Poi qua in volata sono riuscito a vattere e sono molto contento. Una dedica? La dedico a tutte le persone che mi conoscono e che mi vogliono bene. Leggiamo ora la classifica finale che vede al decimo posto Iosic Antonio della Usogna, nono Magno Antonio della Paladina, ottavo Andreoletti Pietro della San Marco Vertova, settimo Dell'Aglio Alberto della Monte Clarense, Sesto Maffei Spietro della San Marco Vertova, quinto Rota Lorenzo della Paladina, quarto Saturnini Mattia della Usogna, terzo Benedetti Daniel della Valle Sabbia, secondo Grassi Nicolás della San Marco Vertova e primo Cattaneo Simone della Ciclo Team Nembro. Grazie a tutti.